Salve a tutti ragazzi sono sempre io e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo tornati qui con la carriera allenatore con i Newcastle ragazzi Prima di incominciare vi ricordo che mercoledì è uscito un video sul mio canale riguardante il foot draft Secondo me è un video fantastico, ve lo lascerò qui a schermo, non perdetevelo Buona domenica ragazzi, vi ricordo sempre anche i miei social network Sotto in descrizione c'è la pagina facebook, il profilo instagram e il profilo telegram Seguitemi anche lì perché ci saranno tante novità Nello scorso episodio vi avevo lasciato un sondaggio per scegliere l'attaccante ragazzi E vi ringrazio per aver votato Ho creato questo sondaggio proprio perché volevo un dibattito sotto nei commenti Volevo sentire la vostra opinione e soprattutto volevo che mi faceste ragionare Perché ragazzi? Perché quando registro faccio le cose un po' senza pensare Cioè ci penso ma non abbastanza perché ovviamente per tempistiche non posso stare due ore qui a pensare Quindi ragazzi mi avete fatto ragionare prima di prendere secondo me una scelta importante Avevo chiesto di scegliere tra Dybala, Batshuay e Milik Ho guardato prima di iniziare a registrare il sondaggio e Dybala sta vincendo più o meno di 10 voti su Batshuay Batshuay ha 474 voti se non sbaglio e Dybala 484 A 100 voti di distanza da Batshuay c'è Milik ragazzi Quindi tra Dybala e Batshuay c'è stato un grande confronto Però ho letto i vostri commenti e ho ragionato Secondo me Dybala serve pochissimo al nostro Newcastle Lasciamo stare il fatto che Dybala è fortissimo e ha ampi margini di miglioramento Però già Correa, Gamero, Meier Che sono tre giocatori che non dico che ci assomiglia Togliamo Gamero, Meier e Correa hanno praticamente lo stesso ruolo di Dybala Più o meno diciamo così E quindi comprare un altro giocatore poco fisico come Meier e Correa Secondo me sarebbe sbagliatissimo Quindi mettiamo da parte Dybala Anche perché Dybala mi farebbe finire tutto il budget trasferimenti E concentriamoci su Batshuay e Milik Inizialmente andava per la maggiore Milik Ma poi Batshuay ha superato le aspettative Perché Batshuay è fisicamente come Mitrovic Ma è molto molto più veloce Mentre Milik invece è fisicamente come Mitrovic Ma è veramente molto lento E sarebbe secondo me uno sbaglio andare a prendere un giocatore identico a Mitrovic E quindi secondo me ragazzi la scelta giusta per questo New Castle Un attaccante che tiene palla alta ma che riesce comunque a gestirla decentemente Può essere Batshuay In più rimaniamo anche con del budget trasferimenti per andare ad acquistare qualcun altro Quindi ragazzi ho fatto la mia scelta vi ringrazio tantissimo per avermi liberato la mente Per avermi fatto ragionare Batshuay è un nuovo giocatore del New Castle Abbiamo in corso Jace Abbiamo in corso Saul Niguez e Sanjust Probabilmente riusciamo a prenderli entrambi questi giocatori Saul Niguez e Sanjust Comunque ragazzi Nuovi giocatori in arrivo Michi Batshuay Sono veramente veramente molto contento Comunque ragazzi ne avete parlato in tantissimo Sì purtroppo il New Castle è retrocesso Mi dispiace tantissimo per il New Castle Mi dispiace tantissimo per i giocatori del New Castle Che secondo me tecnicamente meritavano di stare in Premier League Non dico di vincerla ma di starci Assolutamente sì E mi dispiace per Wijnaldum ragazzi Perché è uno dei miei calciatori preferiti E mi dispiace Mi dispiace che sia dovuto andare in Championship Comunque spero di rivederli presto Adesso ragazzi ci andiamo a giocare la semifinale di andata Di Capital One Cup contro il Chelsea Con questa formazione Krul in porta Colasina Chadarabioio Miazga Castagna a destra Shelby davanti alla difesa Arons a sinistra Townsend a destra Wijnaldum A sostenere Batshuay E Angel Correa Signori Noi ci vediamo in partita Sempre sul pezzo Forza New Castle Sì Batshuay Gran recupero C'è in mezzo Arons Arons C'è in mezzo Batshuay Il tiro di Batshuay Courtois E poi Angel Correa Porta in vantaggio il New Castle 1-0 Magpies Mamma mia che azione ragazzi Qui Arons Indietro per Batshuay Che tira una legnata di destro Pazzesca E poi sul tap in C'è anche il Correa Che porta in vantaggio il New Castle Attenzione qua Troppo spazio per Pedro Ma attenzione perché Pedro è velocissimo Lo insegue Miasga Con la sua grande falcata La mette in mezzo Chiude con la Zinac Molto bene Batshuay Aspetta l'arrivo di Arons Arons Sul destro Per Batshuay Courtois Che parata Però se mi fai questo esordio Batshuay Io ti amo Io ti amo Qui Courtois ha fatto una parata Stratosferica Guarda qui Tutto all'indietro Vediamo se Miasga Riesce a fermare Oscar Ancora Oscar Entra in aria Attenzione La mette in mezzo Arriva Pedro Che la rimette in mezzo In qualche modo Rischiamo qui Attenzione a Pedro Ancora Townsend Grande chiusura Prova a far ripartire Subito Correa C'è in mezzo Vinaldo Poi palla per Batshuay Attenzione perché Batshuay È veloce Batshuay Si allunga troppo il pallone Forse riesce a metterla in mezzo No Peccato Peccato Qui ho sbagliato io con L'analogico Ad allungarmela così tanto Allora Rabioio in chiusura Su Oscar Ragazzi Questo è un gran centrale Ancora Rabioio su Oscar Fenomeno Attenzione a William Attenzione a William Grande anticipo Di Castagne Ragazzi Castagne Ha un overall basso 71 ma È perfetto Veramente In chiusura In marcatura In tutto Correa Palla per Batshuay Il destro Courtois Courtois Gli nega il suo primo gol Con la maglia Di Newcastle Attenzione alla pallaccia La Oscar Diego Costa Si gira Cruel Cruel Si Arons Si Arons Su Cail Si Arons Su Cail Ricopero il pallone Vai Arons Vai Arons Strattonato ancora da Cail E ma che cazzo ragazzi Arons Ma come si fa Occhio in mezzo Occhio in mezzo Siamo scoperti No Diego Costa Cruel 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 Al novantesimo Ci salva Ancora il cul Aspilequeta E finisce qua E finisce qua Ragazzi 1-0 Nella semifinale Di andata A San James' Park Mamma che partita Mamma che partita Andiamo a vedere Le valutazioni Allora Migliori in campo Cruel Io non so perché Baciu Abbia preso 8 O abbia preso 6.1 Che c'era il suo zampino In un gol E ha rischiato di farne Almeno un paio I nuovi acquisti Si stanno comportando bene Ora abbiamo qualche giorno Di calciomercato Per cercare di fare Ancora Qualche acquisto Allora Hanno accettato Per San Giuste Perfetto 1.400.000 Più Jamal Lashel Io Vado ad acquistare Questo 19-n Con 70 di overall Che mi avete Consigliato in tantissimi E sono molto contento Di accogliere In squadra Jeremia San Giuste Soffiato Alla concorrenza Del Barcellona Veramente Veramente Molto contento Ora avevo richiesto Anche per Botaka Ragazzi Perché secondo me È un calciatore Baggatissimo Io provo Un milioncino Con una contropartita Che è Elliot Perché Saul Niguez Ha accettato La nostra offerta Ragazzi Saul Niguez Ha accettato La nostra offerta E non sarebbe male Non sarebbe assolutamente male 5 milioni Più TOT Aspettiamo un secondo Almeno Fino dopo La partita Con il Fulham Perché Voglio vedere Un attimo Se è possibile Andare a fare Un acquisto Migliore Magari Con Un milioncino In più Per esempio Jace Lo preferirei In realtà Però loro Non sono interessati A TOT Se non sono interessati A TOT La vedo Molto dura Quindi proviamo Con 6 milioni 500 E dovrebbe essere La mia ultima Offerta Per Jace Offerta troppo Bassa Offerta troppo Bassa Per Jace Il Lizza Ha accettato Un milione Per Botaka Più Elliot Io Lo compro Solamente Perché Perché voglio Sono curiosissimo Di provarlo Ragazzi Sono curiosissimo Di provarlo Tanto che Non riesco Ad acquistare Più nessuno Ragazzi Vado a Accogliere In squadra Saul Niggas Eccoci qua Altro acquisto Saul Niggas Si Aggiunge Alla rosa Del Newcastle Ottimo Ottimo acquisto Anche questo Ok ragazzi Andiamo a giocare Questa parte Contro il Fulham Contro il Fulham Con Gamero E Baccioa in attacco Meyer Dietro le punte Pratt Jelso Martins Saul Niggas Davanti alla difesa Vendel Bemba Sanjust Castagne E Team Krul Sempre sul pezzo Ragazzi E forza Newcastle Buon dare Vendel La mette in mezzo Aspetta l'arrivo di qualcuno Esce il portiere La palla va Saul Niggas Il tiro Ancora il portiere Meyer Bella palla per Baccioai Baccioai davanti al portiere Eccolo il primo gol Con la maglia Del Newcastle Di Meci Baccioai 1-0 Newcastle Grande azione Grande azione Qua Gamero Ovede Meyer Il nostro C.O.C. Spettacolare Che palla per Baccioai Che per stare sul sicuro Tira col destro Verso il palo E la palla entra Fortunatamente 0-1 Newcastle Baccioai Fa andare Jelson Martins Jelson Martins Rientra La rigioca Baccioai Il tiro di Baccioai Lonergan Che parata Aveva tirato il giro Di esterno Baccioai Fortissimo È veloce Vendel però Ma gioca bene Schmidt Vendel Che chiusura Attenzione Perché è partito Baccioai È partito Baccioai Jelson Martins Gliela rigioca Ancora Baccioai Fisicamente Tiene tutti Poi Jelson Martins La mette in mezzo Dove c'è Meyer Che prova ad andare In rovesciata Meyer Per Baccioai Baccioai C'è Kevin Gamero Gamero Il destro Minchia Credevo fosse entrata Zene Nuri Palla per Gamero Se la mette sul destro Gamero Ragazzi C'è cosa Cosa devo dire Kevin Gamero Ma che gol ha fatto Che gol ha fatto Ragazzi Splendida azione Di Abdelak Nuri Che Peccato veramente Che è gracile Fisicamente Ma Ha una tecnica Incredibile Guardate qua Boom Su destro E via Palla all'incrocio Dei pali Signori Hanno segnato Entrambe le nostre punte Direi che Il meccanismo Funziona bene Finisce qua 0-2 Proseguiamo anche Nfk Ragazzi Non vorrei Mettere le mani avanti Un po' troppo Frettolosamente Ma Quest'oggi Il meccanismo Sta girando benissimo E Questo piccolo Mercato Che abbiamo fatto Mi sta soddisfando Molto E Ho Delle buone sensazioni Io non voglio Non vorrei dire niente Però Lo dico Ragazzi Ha accettato Butacca Ha accettato Butacca Lo compro Perché voglio Voglio assolutamente Provarlo Contro noi È stato un fenomeno Quindi Non posso fare altro Che comprarlo C'è anche un altro portiere Interessante Che è Mai Sonial Speriamo ad acquistarlo Ho un milione e duecento Quindi vedi di Di accettare subito Perché Il Santitian Ha accettato Ragazzi Avanziamo Avanziamo Fino alla barita Con il Chelsea E dovremmo aver fatto Anche l'ultimo acquisto Esatto Abbiamo acquistato Anche Mai Sonial Ragazzi Abbiamo finito i soldi Abbiamo finito i soldi Perché tanto Questi soldi Non si sommeranno Con Il Mercato estivo Del prossimo anno Ma abbiamo fatto Secondo me Un mercato Sempre più incredibile Abbiamo preso Con la Zinac Ottimo terzino Sinistro Da sostituire A Wendel Per essere sicuri Ma i Sonial Importa Poi abbiamo preso Baciuai In attacco Che mi sta Dando le soddisfazioni uniche San Giusto In difesa centrale Saul Linguets E Botaka Siamo Al gran completo Ragazzi Siamo veramente Al gran completo Ora Ci andiamo A giocare La partita Di Capital One Cup Contro il Chelsea Il ritorno Ah ragazzi San Giusto Può fare anche Il centrocampista Difensivo E io questa Amica la sapevo Oh mamma San Giusto Chi abbiamo comprato Ragazzi Ok ragazzi Andiamo a giocarci Questa parida Contro il Chelsea Con La coppia D'attacco Formata Gamero E Correa Meyer Arons Botaka Saive Colasena C'è D'Arabioio Mi Altga Yanamate Cruel Sempre su pesto Ragazzi Forse Newcastle Oggi Allo Stanford Bridge Potremmo Conquistare La nostra Prima finale Di una coppa E sarebbe Veramente Una grandissima Soddisfazione Perché stiamo Costruendo Una grande squadra Secondo me Subito in campo Il nuovo acquisto Botaka Correa Palla per Botaka Botaka Non ci credo Botaka Entra in aria Godin lo ferma Attenzione Botaka Ragazzi Ho già L'ho già inquadrato Yanamate Lancio per Botaka Botaka Se la mette Sul sinistro Botaka Sul destro Botaka Terry lo chiude Se abbiamo Comprato Un fenomeno Bagato Fatemi Una statua Finisce qui Il primo tempo Ragazzi Stiamo Tenendo benissimo Il Chelsea Stiamo tenendo benissimo Il Chelsea Abbiamo Anche qualche Occasione Però anche il Chelsea In difesa Con quel Godin E quel Terry Lì È È bestiale Facciamo fatica A passare Però Finchè la controlliamo Così va bene Attenzione a William La mette in mezzo Esce Krul Ivanovic Occhio al destro Ancora Ivanovic Botaka Lo chiude No 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 Brutta Palla Per No 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 raga Si è sentito Benissimo Il tocco Si è sentito Benissimo Il tocco Della palla Di Miasga Voglio rivedere Replay Voglio rivederlo Fabio Palla Palla piena Questo non è mai Rosso Questo non è mai Rosso Questo è un intervento Perfetto Questo è un intervento Perfetto Andiamo a vedere Questa punizione Adesso come si svolge Andiamo a vederlo Questo è un intervento Perfetto Ragazzi Adesso mi dispongo In questo modo Mi dispongo In questo modo Con Con due cambi Praticamente Esce Meyer Ed entra Vinaldum Esce Gammeiro Ed entra Sanjust Probabilmente Uno schema Va William Centrale Per Krul Facile Facile Dobbiamo tenerla La Dobbiamo tenerla La Sanjust Janmat Botaka Sai Ve per Botaka Incredibile Cosa abbiamo fatto Ragazzi Cosa abbiamo fatto E corri Botachino mio Corri Botachino mio Corri Mettila Non c'è nessuno Esce Kurtuo Malissimo Correa Se stava un pelo Più indietro Oddio Guardate il Chelsea Ragazzi Tutto avanti Tutto avanti Il Chelsea Tutto avanti Non facciamoli colpire Krul Cioè ragazzi Io veramente Alzo le mani E prego E prego Il Dio Team Krul Attenzione Krul Che parata Sul colpo di testa Di Diego Costa Fai Naldum E fai andare Bacuai E fai andare Bacuai Eccolo che se ne va Amici Eccolo che se ne va Ecco di quello Cioè Ma che intervento è Quello di Di Ivanovic Che intervento è Quello di Ivanovic 5 minuti di recupero Palla Qui di Correa L'arbitro Sta perdendo la testa L'arbitro Sta perdendo Veramente la testa Cosa fai me lo butti fuori Questa partita sta prendendo Una brutta piega Devo dire Sta prendendo Una bruttissima piega Perché se prendiamo gol Adesso Dopo sarà difficile Riprendersi Krul Tiela in mano Tiela in mano Non mi interessa È finita Non so perché Sono già finiti 5 minuti Ma andiamo Ci andiamo noi Nella finale Di Capital One Cup Ma che partita ragazzi 9 contro 11 È finita Andiamo a vedere Le prestazioni ragazzi Andiamo a vedere Le prestazioni Potacca 6,4 Molto bene Molto bene Secondo me ha giocato Una gran partita E Krul 9,5 Questo è il tabellone Andremo a incontrare Nella finale di Capital One Cup L'Everton Siamo rimasti a questo punto 47 punti il Chelsea 45 il Manchester United 43 il Manchester City E noi siamo a 40 punti Siamo quarti per il momento A 4 punti dall'Everton Abbiamo uno scontro diretto ragazzi Se lo vincessimo Non sarebbe malissimo Se lo vincessimo Non sarebbe male Se andiamo a giocare Questa partita contro Il Manchester United La San James'Espark Con Krul Wendel Bamba San Juste Castagna South Niggas davanti alla difesa Prata a sinistra Gielson Martis a destra E Maximilian Mayer Dietro Gamero e Batshuay Sempre sul pezzo Fasta Newcastle San James'Espark San James'Espark ragazzi Da brividi Da brividi Sostiene la squadra In una maniera incredibile Questa è la formazione Classica Del Manchester United Non ci sono nuovi innesti Mi sembra di capire Di vedere Anzi Karim Benzema Che è in panchina Ma dicevo San James'Espark Assurdo Assurdo Veramente Emozionante Emozionante Ci sta dando Un supporto Un sostegno Incredibile Fino a questo punto È ancora imbattuto Tra l'altro Contro il Manchester United È arrivata la nostra Prima sconfitta In campionato All'andata Attenzione a Depay Rientra sul destro Depay Attenzione Lo chiude Mbemba Il tiro viene deviato Proprio da Mbemba Se non sbaglio Meyer Per Baciuai Ci arriva Baciuai Ci arriva Baciuai Il tiro di Baciuai De Gea Meyer Dove la stava per mettere Di testa Meyer Sul calcio d'angolo Di Pratt Attenzione Schweinsteiger Che prova il destro Cruel centrale La palla Non va neanche Il calcio d'angolo Gerson Martins Però la lascia lì Se non si fa Schweinsteiger ancora Non lasciamogli il destro Palla fuori Rooney La mette in mezzo Su Smalling Cruel Ma io senza Cruel Come facevo ragazzi Ma come facevo Senza Cruel Ma guardate Smalling Che ha staccato Imperiosamente Dove è andata A prendere la Cruel Finirsi qui Il primo tempo ragazzi È una partita Tostissima Lo United è forte Io sto cercando Di fare del mio meglio Per contenerli E ripartire Ma non è facile Per niente Attenzione a Rooney La mette in mezzo Vendel Libera Poi Gamero Attenzione La palla arriva Blind Il tiro Di Rooney Credo Prende in faccia Castagne E ci salva Ma vabbè ragazzi Non sono riuscito Neanche A commentare Guardate che parata Ha fatto Cruel Sul tiro di Depay È clamorosa Veramente Gamero Per Bacuai C'è dell'altro lato Martins Il tiro De Gea Cosa ha parato Poi Bacuai E non sarà neanche angolo Ma cosa ha parato De Gea Porca miseria Questa è una grande azione Al settantesimo Per Wijnaldum Vendel Ancora per Wijnaldum Aspetta L'arrivo di Gamero Gamero C'è in mezzo Bacuai Ma Gamero Andai dietro Di sinistro Quel mancino mongolo Che c'hai Mannaggia te E finisce qua ragazzi Finisce qua 0 a 0 Un buon pareggio Che ci sta Forse qualche occasione In più per il Manchester United Però anche noi Ne abbiamo avuto Un paio clamorose Andiamo a vedere Le statistiche Sì forse Meritava il Manchester United Però andiamo a vedere Anche le valutazioni 9,9 per Krul ragazzi I nostri difensori Giocano bene Però Krul fa tantissime parate Anche da Tiri da fuori E quelle istintive Comunque anche Leverton Pareggia Contro il Manchester City Quindi la classifica Resta invariata A parte che il Chelsea Sta Volando Là davanti Ok Finisce qui L'ultima giornata Di mercato Ma io sono Stra Soddisfatto Ragazzi Sono stra soddisfatto Mi avete chiesto Di farvi vedere I marcatori Andiamo Abbiamo con 15 Gold Diego Costa E poi A9 Abbiamo Sinclair Boni e Sterling A7 Abbiamo Rooney Nismith Gamero Lens E Shadley Perfetto ragazzi Questo episodio Della carriera natore Finisce qui Spero che vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Ragazzi Un commento Per dirmi cosa ne pensate Di questo calcio mercato Comunque Vi ho dimostrato Che già i nuovi acquisti Si stanno dando da fare Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ragazzi Un saluto da Menzo E alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Grazie a tutti